Al nostro vicario generale della diocesi, un signor Francesco Zegna, al sindaco dottor Alessandro Ferro, qui presente anche come mentore del Comitato Clodincio dell'Anno e a tutta l'amministrazione che ho visto e alle autorità civili presenti. A tutte le autorità militari e ai rappresentanti delle forze dell'ordine, qui tutte davanti a noi. Al direttivo, al Comitato Clodincio dell'Anno che tra poco andrò a presentare. Ai rappresentanti e soci dei club service di Bioggia Rotary Lions Pan. Un saluto all'amico e presidente della Rotary Club, dottor Salvatore Torcellan, l'amico Salvatore, qui presente con molti soci rotariani e gentile signore. Un doveroso saluto va a tutta la cittadinanza, grazie che siete venuti. Un saluto particolare e un sentito ringraziamento va alla Banca Patavina Crezzo Cooperativo di Santerre nel Piove di Sacco, che dalla prima edizione ha voluto sostenere questa nostra iniziativa. Sono qui presenti il signor Leonardo Toson e il capo segreteria generale e ragionier Andrea Rizzi. A loro e a tutta la Banca va la nostra gratitudine non solo per aver supportato dalle origini di iniziativa, ma anche perché questa banca è da sempre, e continua ad esserlo, vicina al nostro territorio, nelle piccole e grandi manifestazioni caratterizzanti la nostra comunità. Io farei un applauso. Un ringraziamento sentito va al nostro artista e autore dell'Leon d'Oro, il professor Dino Memmo, che ha realizzato il trofeo denominato Leon d'Oro. Statuezza di pregevole valore in foglia d'Oro, messa in opera dalla Fonderia Stepanica non era di Treviso. Più tardi il professore ci spiegherà brevemente come è nata questa statuetta. Un ringraziamento va anche a tutta quella parte della cittadinanza che ha inviato le segnalazioni. Un applauso infine va a tutti i segnalati non finalisti che noi più tardi vogliamo presentare, cioè coloro che non si sono classificati nella rosa finale di 5, ma che hanno comunque contribuito a quello che è un requisito del nostro premio, alla crescita, al miglioramento della nostra città e alla sua immagine contestiva. Quindi a voi tutti grazie. Vado ora a leggere gli auguri che il Presidente Zaglia ha esteso a tutti noi in risposta all'invito del nostro Sindaco. Venezia, 20 marzo 2018, il Presidente. Pregiatissimo Sindaco, nel ringraziarla per i cortesi invito, spiace comunicare che non mi sarà possibile partecipare alla cerimonia di consegna del premio Provense dell'anno 2017 a causa di concomitanti impegni istituzionali. Chioggia riveste un'importante culturale ed economica strategia del Veneto. Città operosa e caposaldo della storia veneta trova nella consegna degli attestati di benemerenza che l'udienza dell'anno un momento di riflessione per il suo presente e per il suo futuro. Nell'augurare la migliore uscita dell'evento desidero porgere i saluti della regione del Veneto e i miei personali a tutti voi presenti, correalmente dottor Luca Zaglia. A proposito di saluti, ci farebbe molto piacere avere un saluto da Monsignor Francesco Zenna, il vicario, un saluto da Monsignor Francesco Zenna che viene invece anche del vescovo, ma non è mai mancato. Sì, un cordiale saluto davvero a tutti, anche a nome di Monsignor Vescovo che è impegnato nella visita pastorale, come penso di più e sabbiate. E un plauso al comitato del premio a credenza dell'anno, che ci aiuta a conoscere e a riconoscere il bene che viene anche da questa realtà che è la nostra città e il nostro territorio. Contribuendo così a realizzare quello che diceva San Tommaso d'Aquino. Bonum est diffusivum sui, cioè il bene si diffonde ed è questo oltre che una constatazione, un augurio che facciamo a questa esperienza, che davvero il bene continui a diffondersi.